Il signore Duval deve effettuare oggi un esame del fegato con FibroScan. Prima dell'esame, il signor Duval si pone alcune domande. FibroScan è la soluzione non invasiva di riferimento per la gestione completa delle malattie epatiche croniche. Non invasivo significa che nulla entra nel tuo corpo. FibroScan invia un piccolo impulso meccanico al tuo fegato che fornirà al tuo medico importanti informazioni sulla sua salute. Indossa abiti comodi che permettano l'accesso al lato destro dell'addome. È necessario essere a digiuno da almeno tre ore prima dell'esame. L'esame viene effettuato da un operatore certificato, medico, infermiere, tecnico. Ti sdraierai sulla schiena con il braccio destro dietro la testa, incrociando le gambe, gamba destra sopra quella sinistra, per contribuire ad aprire gli spazi intercostali. L'operatore posizionerà il gel per ultrasuoni sulla sonda che verrà collocata tra le costole per effettuare le misurazioni. No, è un esame indolore. Potresti riuscire a sentire i leggeri impulsi generati dalla sonda durante le misurazioni. Un esame FibroScan richiede generalmente dai 5 ai 10 minuti. I risultati sono disponibili immediatamente dopo l'esame. Il tuo medico ti spiegherà i risultati e il loro possibile impatto sulla tua cura. Per maggiori informazioni sulla salute del fegato e FibroScan visita Ecosense.com.